Benvenuti su Hobbes, il miglior canale sul Tube Italiano con il Dottor Meg e il Signor Lune che oggi investe anche di Pit Master. Assolutamente sì. Quindi quando non giocherà lui ci dirà le ricette. Perché il Signor Lune consiglia di metterci la roccia moscata. Ma prima sigla. Bene, ce l'avamo lasciati nello scorso episodio con una prudezza del Dottor Meg che riesce a deliverare in Extremis una missione durata l'intero episodio. A questo punto le cederei. No, no, vado pure. Allora. Tanto le alette di Bob. No, Wilson no. Quello sembra più un Jacket con i colori alternativi. Eh, che vaffanculo. Perché Wilson lì è un altro di coglioni. Perché non ha sparato? Eh, non lo so. Mentre non abbiamo. Ha fatto cilecchia l'arma. attenzione. Eh, no, cazzo. Benissimo. Easy piece of cake. Là c'è un Vin Diesel, attenzione. Vin Diesel sono come i cani, cazzo. Sì. Sono più ignoranti della gente grosso. Lì c'è uno con il grilletto più semplice. Bene, attenzione viene da di sopra. Ah, fa il culo. Grilletto il letto facile proprio. Eh, direi di sì. Eh, non ho tirato contro il muro. Alle volte tre gare aiuta un sacco. Dai. Ma vaffanculo. Allora. Dai che andare. Allora. Ciccio pasticcio. Allora. Allora. Se ricordi che in alto là c'è il Vin? Ah, c'è il Vin. Benissimo. Tanto non c'è più Vin. Eh, c'è un altro Vin lì. Ah, non l'avevo mica visto. No, cazzo. E non è riuscito. Ho slisciato col lancio. Se qui c'era Jake. Jake. Con i suoi, con i suoi lanci nepali. Ne ha presi tutti tranne lui. Ma, 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 ma ha cacciato una manata del signore trovato. Ma perché non, perché trighi quello sbagliato? Allora. Maledetto trigger. Allora. 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 Porca slisciaroia. Maledetto. Niente. Sì, ma è un attimo dottore, non si creò. Beh, almeno moriamo qui e non quando siamo un po' più. Esatto. In situazioni più complicate. O alla fine. Ecco. Vieni. Merda. la... 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 la slisciata dottore. No, lui è senza problema mostarella quella. Perché ha fatto cambio arma e non lancio. Oddio. Ok. Occhio, signor mule lanci l'arma. Oh no, posta. No, no, la slisciata. Przyby, lancio stare qua. Eh, la vedono di là. Ok. C'è un ciccione? Un vin? E un pisto con una pistola. ho fatto troppo rumore quindi prima di liberare il jake di sopra conviene andare a sistemare quelli di sotto guardi se lei ci riesce non c'è bisogno... e lui? attenzione perchè... bene dicevo che senza aspettare che gli venga addosso lo può colpire fin da subito cosa? quando ancora non si insegue perchè sono in te adesso? intanto è arrivata una mela vogliate scusare per i rumori inconsueti ma non avevo una scorrezza ok purtroppo CAZZO! sapevo che ero lì e ho detto adesso... ma in me sarà vero il problema signor luni è che se noi lo andiamo a prendere là su c'è caso che si vedono si quello si allora siccome c'è un tizio con la pistola un wind diesel c'è prima il wind diesel in un altro c'è anche lui eh ah l'ho visto arrivati dei coglioni può dare sennò anche mettere la decisione a affa adesso eh puoi fargli... eh no può sparare il giro no andatevene a fa' al culo allora diciamo che è stata una serie di sfortunati eventi ma decisamente cioè non si vedeva una roba del genere da fuori in 60 secondi quindi quello con eh che c'è la polizia c'è la polizia di pattuglia lui è lì con la mastaglia che gli si spegne e parte l'insegnamento della madonna bene vada dottore eye of the tiger dai ok dai adesso cambia bene bene c'è un altro wind diesel lì sopra lo vede? si vuole ammazzare prima quelli attraverso il bene c'ha tre colpi eh? si si bene intanto con wind perchè sparaglia vittagio vuole triggare wind? no lo fa cosi a mano libera al dottore un artista al resto però mi serve un altro un altro pomponazzo oppure la pistola che era di sopra ma due colpi quello lì non ne ha di più quello lì non ne ha di più quello l'ingresso chi è che manca? ah quello lì il pistolero attenzione dottore attenzione che lì ha aperto chi c'è adesso? ah quello di fronte a questo praticamente lui ha ucciso tutti si dici nel dubbio prendo la pistola prendo la pistola che bello è il poliziotto che esce con la 44 ecco ah ok vuole controllare se c'è qualche cosa in giro ma penso qui ok ok allora ci siamo ci pensiamo noi vedete se lo prendiamo noi stiamo evacuando quindi esca di qui va bene va bene va bene 101.000 di più ci hai messo 40.000 per farlo allora dopo di questo beh non non c'è molto altro da dire veramente se posso chiedere dove è stato dove è andato dopo la fuga io credo che che potrebbe saperlo meglio io penso che lo potrei dire in fondo le sue altre sono stato alle uai vede questo è perché è il motivo per cui mi serve che rendiamo un biglietto aereo non non è per me è per mia madre sono veramente preoccupato per lei non può prendersi cura di sé da sola speravo potesse venire qui con me hai opinione penso che lei potesse mandarmela qui penso si si capisco devo controllare il mio account bancario le invierò i soldi in un modo o nell'altro ok? one way or another come quella famosa canzone non dovrebbe essere non dovrebbe essere non sarebbe corretto ottenere credito eh sì ma deve essere sicuramente così io 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 non penso capisca quanto aiuto mi ha fornito quanto mi aiuto di quanto ci ha fatto la mia sicurezza ritali caro evan non ti sento eh da un pezzo mi manchi i ragazzi ti ti manchi anche ragazzi ecco ai ragazzi manchi altrettanto penso penso che potremmo far funzionare le cose ok penso che fare del matrimonio ma non posso lasciare ma non posso vivere con un uomo che mette il suo lavoro davanti alla famiglia eh io continuo ad amarti lo sai spero quando tu mi ami un trattato ti prego chiamami quando lo leggi Sharon ok andiamo al telefono allora no andiamo a scrivere perchè lui vuol fare i big money lui vuol fare catastrophe atto sesto attenzione 18 novembre del 91 attenzione ma lui non era morto questo è prima che lui morisse probabilmente ah posso dire una cosa qui questo continua ad andare avanti e indietro ma ci confondi assolutamente si volevi dirmi boss si abbiamo cose da fare stanotte tipo sai lo street club sulla 77 aprirà domani quindi i colombiani loro sono i proprietari del palazzo cioè insomma del posto loro stanno avendo una festa d'apertura stanotte inclusivi no solo Vips ah ok solo Vips come l'ha trovato? che ne pensi? mi hanno invitato mi hanno invitato non lo faccia così porta le tue armi andiamo ad assicurarci che loro abbiano un party divertente vuoi iniziare una guerra con i colombiani? è veramente una buona idea? eh loro hanno molto più molto più scagnozzi di quanti non abbiamo noi dopo che mio padre morì loro arrivarono qui e rubarono il nostro territorio i nostri affari affari pensi che io glielo lascerò semplicemente fare cioè lascerò che si dividano non lo so è veramente il momento giusto per farlo? non c'è non c'è il momento migliore nel mentre che aspettiamo loro continuano ad espandersi ora chi è il boss qui? tu o io? hai altre obiezioni da muovere? tu sei il boss farò qualsiasi cosa mi direi di fare molto bene molto bene allora andiamo no ma comunque siamo siamo il boss quindi finalmente guidiamo il transame e non quella cacca mobile la cacca mobile perché il boss guida il transame attenzione eh no è di sotto ah sotto ok e l'altro non viene sì ridimensionamento mi sa attenzione attenzione bodyguard la proprio dodge che è la zebra esatto e direi assolutamente no ma non possiamo fare altrimenti cazzo bella però la katana bella però la katana benissimo ok non l'avevo vista perché è anche scura e io direi con questa prova noi chiudiamo qui la puntata e ci vediamo nel prossimo episodio spero che il video sia piaciuto commentate scriveteci le solite cose e noi ci rivediamo sempre qui su Opens miglior canale sul tubo italiano con consigli di barbica tutti su Opens il miglior canale sul tubo italiano io sono il signor lune migliore io sono il dottore comunque il dottore comunque si cioè l'ha detto mia mamma inscrizione cioè è una fonte ah vabbè è una fonte il miglior canale il miglior canale è un po' l'ho il miglior canale il miglior canale è un po' Grazie.